L'Eliana Segre, cittadina onoraria di Cremona, è questo l'obiettivo dei partiti di maggioranza in consiglio comunale che hanno depositato una mozione in consiglio per conferire la cittadinanza alla senatrice della Repubblica deportata ad Auschwitz e una degli ultimi testimoni viventi italiani dell'olocausto degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Un atto che arriva dopo quello analogo di molti altri comuni italiani, le ultime città da approvarla, Ferrara, Genova e Bologna. Una valanga di solidarietà che arriva dopo un fiume di odio sul web, dove gli attacchi e gli insulti degli haters hanno costretto a prendere provvedimenti per la sicurezza della senatrice, ora sottoscorta. Cremona intende dimostrare altrettanta vicinanza con il gesto simbolico affidato alle parole con le quali i capigruppo di maggioranza, Lapo Pasquetti, Roberto Poli ed Enrico Manfredini sostengono la candidatura di Segre. Riconoscendo l'impegno della senatrice e il valore della memoria come leva fondamentale per mantenere vivo il ricordo del passato, nel ribadire la propria avversione contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia. La mozione sarà presentata nella prossima seduta, sperando venga approvata all'unanimità anche dal centro-destra e dai partiti della minoranza. Grazie. 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 Grazie.